Musica Comuni senza acqua, settimana cruciale verso la conclusione ai lavori di Acquelle per l'utilizzo del fiume Basento. Le rassicurazioni sulla potabilizzazione non convincono dopo potenza distribuite confezioni d'acqua nelle scuole e in altri comuni, occhi dell'Ampi, su Monte Cotugno. Basilicata in vetrina, Matera ha preso il via la borsa del turismo delle radici, siamo alla terza edizione dell'evento che pone la città dei Sassi e la regione quale meta turistica a livello internazionale. Il terzo settore lucano si mobilita oggi a associazioni a confronto per risolvere le controversie emerse durante il rinnovo dei vertici del CSV. La campagna Fai per il clima, dagli ulivi all'olio, una passeggiata con noi è stata la proposta della delegazione di Tricarico e della Lucania per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico. Calcio protagonista del weekend sportivo lucano in serie C, in attesa degli altri due risultati utili, Potenza si gode il secondo posto in classifica, rabbia da sbollire a Picerno per i due punti persi col Sorrento in serie D, un solo punto per Matera e Franca Villa. Buon poveriggio dallo studio della nuova TG, vi ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Lo ascoltavamo dai titoli, settimana cruciale per l'evoluzione dell'emergenza che da mesi attanaglia i 29 comuni serviti dalla diga Camastra. Quasi ultimati i lavori per la condotta che permetterà di utilizzare l'acqua del fiume Basento, ma nonostante le rassicurazioni del commissario per l'emergenza, Vito Bardi, sono molti i sindaci che stanno correndo ai ripari. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Al via la settimana cruciale per l'evoluzione della crisi idrica che ormai da mesi attanaglia i 140.000 lucani residenti nei 29 comuni serviti dallo schema idrico Basento-Camastra, con la diga ormai praticamente a secco, appena 300.000 ai metri cubi ancora utilizzabili a fini potabili, tutti gli sforzi sono ripiegati sull'ultima azione della condotta che permetterà di utilizzare le acque del fiume Basento, soluzione che continua a destare dubbi e polemiche da parte del Comitato Acqua Pubblica che annuncia nuove manifestazioni di protesta. I lavori sono ormai alle battute finali con la sistemazione delle pompe di sollevamento e la consegna dell'opera prevista per la giornata di mercoledì. E proprio mercoledì tornerà a riunirsi il tavolo di crisi presieduto dal commissario per l'emergenza, il governatore Vito Bardi, che dovrà decidere se e quali ulteriori restrizioni varare, in attesa che il sistema Basento vada a regime. Fino a domani si andrà avanti con le restrizioni dalle 18.30 alle 6.30 del mattino, con la speranza che non ci siano intoppi che possano in qualche modo rallentare l'utilizzo dei 400 litri al secondo, che dopo essere stati prelevati dal Basento e convogliati nel cosiddetto Camastrino, transiteranno nel potabilizzatore di Masseria Romaniello prima di essere immessi in rete. Nonostante le rassicurazioni di Regione Acquedotto Lucano e i risultati delle prime analisi, sempre più sindaci corrono ai ripari in attesa dell'incontro con il commissario Bardi, fissato per mercoledì alle 12.00. I primi cittadini di Oppido e Avigliano, Mirko Evangelista e Giuseppe Mecca, entrambi, politicamente vicini al centrodestra, hanno deciso di distribuire bottigliette di acqua minerale nelle menze scolastiche, una forma di precauzione che denota la mancanza di certezze su una questione così delicata. Per rassicurare ulteriormente sulla bontà delle procedure utilizzate, l'unità di crisi ha coinvolto nel processo di analisi delle acque del fiume il direttore del Centro Nazionale di Sicurezza delle Acque dell'Istituto Superiore di Sanità, Luca Lucentini, per lo sviluppo di metodi di analisi chimiche per la tutela della salute. Intanto dall'Ambi arriva l'ennesimo allarme, in sofferenza infatti c'è anche la diga di Montecutugno di Senise, la più grande d'Europa in terra battuta, nella quale resta meno del 6% della capacità. All'appello mancano ben 440 milioni di metri cubi d'acqua e senza il ritorno della pioggia la situazione è destinata ulteriormente a peggiorare. Cambiamo argomento a Matera, ha preso il via la borsa del turismo delle radici, siamo alla terza edizione dell'evento che pone la città dei Sassi e la Basilicata, quale meta turistica a livello internazionale. Due giorni in cui si incroceranno le offerte degli operatori locali con le esigenze dei paesi esteri. Una grande opportunità per la Basilicata di promuovere il suo turismo di qualità e attrarre flussi dall'estero e valorizzare le tradizioni, i paesaggi e la cultura lucana. Un'edizione speciale a coronamento di un anno che l'azienda di promozione del territorio ha dedicato al turismo delle radici, un potenziale di circa 80 milioni di italodiscendenti nel mondo rappresentato dalle generazioni successive a chi tra la fine dell'Ottocento e nel corso del Novecento è emigrato dal nostro paese. La Capitale Europea della Cultura 2019 offre una vetrina globale per il turismo legato alle radici familiari. L'evento organizzato da PT Basilicata in collaborazione con Enit e patrocinato dal Ministero degli Esteri si inserisce nel processo Italia che promuove il turismo delle origini e favorisce il ritorno degli italiani dall'estero. Oltre 60 relatori agli eventi in programma tra forum, workshop, tematici e anche incontri. Il terzo settore lucano si mobilita oggi associazioni a confronto per risolvere le controversie emerse durante il rinnovo dei vertici del CSV. Sentiamo Isabella D'Andrea. Cinque componenti su nove di prima nomina che non hanno nulla a che fare con eventuali errori interessi commessi e portati avanti in passato, lo ribadisce il presidente del Centro di Servizio per il Volontariato di Basilicata, Giannino Romaniello. Ma non si placa la polemica riguardo alle procedure di rinnovo dell'organismo, ristabilire un clima di trasparenza e rispetto delle regole all'interno del Centro di Servizio per il Volontariato Basilicata. E' questo l'obiettivo di numerose associazioni lucane afferenti al CSV, le stesse che hanno presentato ricorso in merito al voto espresso nell'Assemblea del 29 luglio scorso, che hanno promosso una conferenza stampa per chiarire le problematiche emerse durante il recente processo elettorale, nonché per esporre le rispettive posizioni e definire i ruoli e funzioni degli organi coinvolti. Con questa mattinata abbiamo voluto confermare quanto è stato detto attraverso il ricorso presentato alla Fondazione ONC, cioè che i soci del CSV Basilicata hanno bisogno di sentire la loro voce rispettata all'interno dell'Assemblea con tutto quello che riguarda i diritti e i doveri dei loro soci, dei soci. E quindi c'è bisogno sostanzialmente di ripristinare la democrazia all'interno dell'organismo, partendo da una considerazione che l'Assemblea elettorale del CSV Basilicata ha indicato un'altra persona e altri componenti con un numero di voti significativo rispetto all'attuale composizione del direttivo del CSV. Insomma il Consiglio direttivo è stato eletto ma secondo le associazioni con ombre sulla procedura elettorale e sulla conduzione delle due assemblee elettive. Lo scenario che è accaduto non appartiene a un ente rappresentativo di un intero volontarietto di Basilicata e questo ha fatto emergere il fatto che associazioni volessero e hanno cercato di mantenere il controllo ancora nonostante nel passare degli anni abbiano già gestito il CSV e non vogliono perdere il controllo. Noi stiamo condestando l'attuale gestione del CSV perché ci sono state delle illegittimità nell'Assemblea per noi e quindi coloro i quali hanno proceduto in maniera errata devono capire che bisogna rinnovare l'organismo però facendo perno sulla democraticità di coloro i quali vanno a determinare la nuova gestione del CSV. Intanto nel pomeriggio nella sua sede il Centro di Servizio per il Volontariato presenterà il nuovo programma in un'assemblea convocata dal presidente Giannino Romaniello che alla vigilia dell'incontro ha inviato alla stampa una nota ritenendo necessari alcuni chiarimenti proprio alla luce della conferenza stampa indetta dalle associazioni afferenti al CSV e ribadendo d'altro canto il pieno rispetto delle regole durante la procedura di voto. A Lavello monta la protesta per la chiusura della sede dell'Associazione per Anziani di Giglio il Comune ha recapitato una lettera di sfratto la sede infatti sarà utilizzata nell'ambito di una riorganizzazione dei nuovi uffici comunali i segretari generali SPI, CGL Basilicata e SPI, CGL Potenza, Angelo Summa e Michele Sanazzaro precisano come la titolarità del Centro Sociale intitolato a Michele Di Giglio faccia capo a CGL Cisle Will che hanno voluto offrire uno spazio di socialità alle persone più anziane Summa e Sanazzaro hanno chiesto al commissario prefettizio di Lavello di fare un passo indietro provvedendo al rinnovo della proroga del contratto di concessione scaduto a marzo 2024 un atto dovuto, dicono, verso un presidio che rappresenta un pezzo di storia della comunità nonché importante il luogo di ritrovo degli anziani sempre più numerosi e spesso soli nei nostri paesi dove i giovani continuano ad emigrare. E la Caritas di Matera organizza il caffè sociologico, progetto di contrasto alla povertà si comincia il 24 novembre nella mensa della Fraternità Don Giovanni Mele in via Cererì e nella città dei Sassi con appuntamenti anche a Pisticci e a Ferrandina si tratta di uno strumento di modalità di discussione e progettazione partecipata a partire dai dati dell'osservatorio delle povertà e delle risorse delle Caritas diocesane saranno coinvolti operatori pastorali e sociali, rappresentanti delle istituzioni, cittadini e insegnanti l'attività del caffè sociologico si colloca all'interno del progetto di promozione Caritas per l'animazione della comunità denominato Zete ma è sostenuto da Caritas Italia. E l'Università della Terza Età di Potenza ha celebrato il 37esimo anno di attività con nuovi corsi ma anche con l'avvio di nuovi laboratori, la mission dei volontari è favorire l'inclusione delle persone anziane attraverso conoscenza, sapere e anche divertimento. Sentiamo Mara Risola. Cresce il numero di iscritti all'Uni 3. Dopo una lunga pausa dovuta al Covid ma anche alla ricerca di una sede in grado di accogliere nuovi iscritti in aumento sono ripartite le attività dell'Università della Terza Età ben 180 le persone che quest'anno frequenteranno corsi ma anche attività ludiche che si terranno nei locali del Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza si tratta per lo più di persone avanti con l'età anagrafica ma mentalmente attive soprattutto con una grande voglia di apprendere e socializzare perché non bisogna mai stancarsi di ricordare che non si finisce mai di imparare nei giorni scorsi è stato inaugurato l'anno accademico il 37esimo con un incontro che ha voluto mettere al centro l'attività dei volontari un esercito di volontari che sono stati meravigliosi nel realizzare altruismo per chi aveva bisogno attività ricreative, sportive, molta socializzazione e molta cultura per tutti molto articolata la programmazione offerta con corsi di diretto economia filosofia, medicina, letteratura, scienze, storia, filosofia, teologia e storia dell'arte ma anche laboratori come ballo, disegno, pittura inglese per iscriversi non è necessario alcun titolo di studio ripercorsa la storia dell'Uni3 attraverso un book fotografico dedicato a Silvio Aprea, storico presidente, come racconta la moglie Lui ha voluto creare una famiglia esterna alla propria casa in modo da creare sintonia, armonia tra tutte le persone deboli e fragili però ha anche voluto creare cultura, ma vera cultura per cui noi abbiamo 12-13 corsi e 17 laboratori in modo che ognuno uscendo di casa trova qualcosa da fare rispondente alle proprie esigenze dalla manualità alla spiritualità L'attività dell'Uni3 sposa in pieno la mission che il Comune di Potenza si è dato per valorizzare la terza età L'Uni3 rappresenta uno strumento di condivisione uno strumento di condivisione del sapere ma rappresenta anche uno strumento sociale importantissimo perché crea quei momenti di confronto momenti di confronto fondamentali per creare una comunità sempre più coesa La campagna vaccinale contro l'influenza il Covid, il primo bilancio ci giunge dall'azienda sanitaria di Matera che ha lanciato gli open day nel weekend risultati importanti nei punti vaccinali territoriali di Matera nella sede Asmi in via Montescaglioso e al distretto sanitario di Policoro in via Montecenisio che resteranno aperti dalle 9 alle 13 anche nel prossimo weekend Affluenza robusta nella giornata di sabato confermando l'efficacia dell'offerta attiva particolarmente rivolta alle categorie più fragili, vulnerabili e maggiormente a rischio di sviluppare complicanze gravi restano operative oltre agli open day tutte le altre modalità di somministrazione attraverso i punti vaccinali territoriali e la collaborazione con i medici di medicina generale E' stato ritrovato questa mattina e sta bene il cinquantenne di tramutola di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri si era allontanato in moto verso località Campolongo al confine Campano ed avrebbe perso l'orientamento a causa di una fitta nebbia era stato l'uomo ad avvisare la moglie del disagio prima di far perdere le tracce le ricerche sono state condotte dalla protezione civile e gruppo lucano dai vigili del fuoco e dai carabinieri con l'ausilio di tre unità cinofile e droni La campagna FAI per il clima dagli olivi all'olio una passeggiata con noi è stata la proposta della delegazione di Tricarico e della Lucania per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico Sentiamo Vito Sacco Dagli olivi all'olio una passeggiata con noi è stata la proposta della delegazione FAI di Tricarico e della Lucania Interna nell'ambito della campagna FAI per il clima per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico Abbiamo individuato un'azienda del nostro territorio che ci ha permesso di organizzare una visita ad un uliveto e successivamente al frantoio in maniera da poter capire come l'ulivo risente dei cambiamenti climatici degli sbalzi del clima che sempre di più stanno interessando le nostre realtà Il clima mite ha favorito la partecipazione degli escursionisti alla passeggiata FAI tra gli ulivi dell'azienda Frantoio Leario Ruscigno una famiglia di frantoiani da diverse generazioni che ha voluto investire nel biologico e ha saputo innovarsi per offrire un prodotto di alta qualità con un'attenzione al risparmio energetico e per limitare i danni del rapido cambiamento climatico Abbiamo fatto una visita sul campo con una passeggiata nell'uliveto abbiamo spiegato l'importanza di avere un terreno ricoperto da inerbito l'importanza della flora batterica del terreno in relazione sia alla qualità sia all'immagazzinamento del carbonio all'interno del suolo e anche al trattenimento dell'acqua Poi ci siamo spostati nel frantoio dove abbiamo seguito e illustrato tutto il ciclo di trasformazione delle olive in olio il suo stoccaggio e abbiamo toccato anche i temi di finanza sostenibile e i temi di qualità dell'olio con la produzione minima di CO2 La visita è partita proprio dalla spiegazione di come viene effettuata la raccolta delle olive in un campo posto a regime biologico La raccolta delle olive viene scrupolosamente fatta a mano con messi delle reti sottostante all'albero e con degli attrezzi meccanici elettrici per evitare fuoriusciti di oli minerali Le olive vengono converite subito al frantoio questo è un privilegio che abbiamo perché abbiamo l'azienda agricola l'oleficio, la trasformazione perciò in giro di 2-3 ore viene fatto l'olio per avere un fruttato intenso e dei profumi molto delicati L'azienda non produce soltanto olio biologico ma anche prodotti cosmetici biologici Nella nostra azienda utilizziamo anche l'olio d'oliva come prodotto per partire e fare dei prodotti cosmetici e oggi per esempio abbiamo fatto vedere ai visitatori come dall'olio d'oliva di scarto si possono produrre delle saponette anche fatte in casa Siamo alla pagina sportiva con in primo piano il calcio di Serie C animi contrastanti per Potenza e Picerno dopo le gare con Giuliano e Sorrento i Rosso Blu di De Giorgio in estasi dopo la vittoria per 2-1 Melandrini amareggiati per il pareggio Beffa che è il sapore di una sconfitta Salvatore Colucci Un Potenza così bello non lo si vedeva da diverso tempo i Rosso Blu scesi in campo a Giuliano hanno espresso forse il miglior gioco che si sia visto negli ultimi decenni un Potenza letteralmente dominante che ha imposto il proprio gioco per tutto il corso della partita e che non ha praticamente rischiato nulla se non nell'occasione del rigore Anche nel primo tempo in cui si è concluso meno importa i Rosso Blu di De Giorgio hanno tenuto il campo mettendo alle strette un buon Giuliano Il Potenza è evidenziato ancora una volta e con maggiore vigore voglia di giocare ed esprimere le proprie idee una squadra che sta diventando un gruppo grazie al mister De Giorgio e che lavora costantemente ad altissimo ritmo in ogni allenamento E' qui che è nata la svolta del Potenza nella scelta del giovane tecnico calabrese e nella conferma di una serie di uomini funzionali alle sue idee E a proposito di uomini chiave non si può non partire dal bomber Salvatore Caturano leader dentro e fuori dal campo e che sta vivendo una stagione eccezionale 8 gol in 11 partite sono numeri straordinari numeri di cui ne beneficia il Potenza Si fa grande fatica in casa Picerno a smaltire la rabbia per il pareggio contro il Sorrento che ha tanto il sapore di una sconfitta o di due punti persi per strada Una gara condizionata da alcuni episodi da maviola che hanno fatto esplodere la dirigenza rosso-blu e il DG Vincenzo Greco che ha protestato in maniera plateale nei confronti della terna arbitrale Episodi che sono girati male per il Picerno che ha finito per perdere due punti per strada quando tutto faceva pensare ad una vittoria ormai acquisita Al di là della rabbia e della comprensibile delusione tra le note positive e la striscia positiva che si allunga tre risultati utili consecutivi e la prima rete stagionale di Sant'Arcangelo Un gol che potrebbe dare maggiori stimoli al giovane attaccante poco utilizzato da Tomei finora per provare a guadagnare posizioni nelle gerarchie del tecnico pescarese e provare ad entrare maggiormente nelle rotazioni sia dal primo minuto che a partire in corso Due pareggi per Matera e Francavilla nella dodicesima giornata del campionato di Serie D Andiamo a vedere Donato Valvano Dopo il pareggio contro il Fasano per 0-0 della scorsa settimana ancora un segno X per il Matera che impatta per 1-1 in casa del fanalino di Coda Brindisi La formazione di Mister Torrisi passa in vantaggio in apertura di prima frazione grazie all'Eurogoal di Tomaselli che raccoglie un assist di Di Piazza e manda la palla alle spalle di Milan Alla 37esimo arriva il pareggio dei padroni di casa con la zampata di Marcheggiani sulla quale non può nulla testa grossa Nella ripresa il Matera sfiora la vittoria con il Lob di Di Piazza che però va ad infrangersi contro la traversa finisce quindi così con un pari che non soddisfa i Lucani finisce a reti inviolate invece al 21 settembre tra il gravine del Francavilla nella prima frazione rischio per la formazione di Mister Norley quando Santoro centra la base del palo da buona posizione anche il Francavilla si rende pericoloso con lo stacco di Pellegrini su azione d'angolo palla che sbatte contro la traversa ancora Francavilla pericolosissimo con Esposito che manda al bar mezza difesa di casa ma poi viene fermato da un miracoloso Zanin nella ripresa Bastianelli con un diagonale da ottima posizione manca il gol del vantaggio per una questione di centimetri nella fase finale della gara i Rossobru calano l'intensità e subiscono la forte pressione dei Burgiani che però si portano più volte dalle parti del portiere Prisco alla ricerca del gol del vantaggio ma senza riuscire a passare finisce così 0-0 un risultato che consente al Francavilla di fermare la striscia negativa di tre sconfitte di fila I risultati della dodicesima giornata della Gerone H di Serie D Acerrana, Nardò 2-2 Brindisi, Matera 1-1 Costa, Damalfi, Fidelisandria 1-1 Gravina, Francavilla 0-0 Ischia, Manfredonia 0-2 Palmese, Nocerina 3-2 Fasano, Virtus, Francavilla 0-1 Martina, Angri 4-1 Casarano, Ugento 2-1 La classifica Nocerina e Casarano al comando con 26 punti A seguire la Virtus Francavilla 25 Fidelisandria 22 Gravina e Palmese 20 Martina e Nardò 19 Matera 18 Angri e Acerrana 13 Ischia 12 Francavilla 11 Ugento, Fasano e Costa, Damalfi 9 Manfredonia 8 Chiude il Brindisi a meno 3 E tutto per questa edizione La prossima alle 19 Grazie per l'ascolto Arrivederci Grazie per la visione